Ma perché sono dietro di qui? Ho fatto l'acqua di bollupi Beh, oh, allora Non sapevo che stessi facendo Bella raga Allora, sono qui in buona compagnia Però mi sono arrivati un po' di pacchi Va bene, non voglio sapere No, questo voi dovete vederlo Perché ciao Allora Grazie Ferdinando Ve lo dico Qui, qui ha svoltato Siete pronti? Vieni qua Sono con Girovan Mondo No, Gando Mettiti qua che se no non si riprende No, no, vieni qua Andiamo Sì, pronto? Sono pronto Ha esagerato qua, eh Gliene avevo parlato ma A me? Sì Questa sì, me l'aveva accennato Che bello Le crocs Sono pure da montagna Perché hanno il grip dietro Infuocate Cioè Veramente Epico Vado a prenderle A posto Comunque Raga Raga No 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 Si recupera Si recupera No, no Si recupera Stiamo facendo gli gnocchi E c'è stato un incidente di percorso Vieni qua c'è il pacco del cibo Allora Questo pacco invece me l'ha mandato Alimenti 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 E lui E lui Davide Grazie a Davide Da Grazie a Davide Da Cagliari No Questo non può No L'accento sardo è bellissimo Non vuole essere una presa in giro E mi diverte No vabbè Allora Bottarga di murgine Muggine Concentrato il pomodoro Ci sta sempre Torrone Torrone ci sta Spianadina Spianadina Scusate Guardo Basta di semola Cosa facciamo Vieni qua Lui è il cuoco del campo La birra Questa so come si usa Questa lo so come si usa No Poi Guarda quanta roba buona Presentati Ciao a tutti Ciao Io sono Girovanmondo No in realtà non è vero No è Girovangando Girovangando Però ci piace Girovangando È andata così Come Questa è Questa è buonissima Sì 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 Questa è tipica sarda La fregola Stavo gli ardi Top Si sono un pochino schiacciati Ma vanno bene Vanno bene Questo sai che tirami su che fai con questi Forse sono sfregati Perché sono troppo buoni Eccolo Cos'è quello Lo so Te l'ho detto prima Pane carazzo Pane carazzo Coccole culinarie per Cherie Super apprezzate Questo è quello che ha vinto Perché qua ha vinto Chi mi segue Allora Un brushcrafter che usa Via dal canale Poi Altro mangiare per Cherie Grazie mille Spettacolo Si Pardulas Dolci C'è ma Ah quelli sono quelli Ripieni di formaggio Forse Il latte No ma No ma No sto male Questi sono pieni di ricosti Sto male Gnocchi sardi Buonissimi Oh Quello lo so cos'è Lo indovino con una No Anch'io Anch'io Inizia con la M A cinque lettere Inizia con la M E finisce con il No Mi spiace No Meglio No scherzo Anche Ah Ok Ci sta sempre Ci sta sempre Apprezzatissima Non filtrata Grande Grande Io però avevo altri pacchi E non li trovo Bene Allora Poi Giusto No è per la Cioè da Un po' esagerato Con la lunghezza Questo è per quando volo Impara E devo dire che sto planando Questo poi È uno strumento Che servirebbe Per non planare E no L'ho pagato io Questo Ah ma È roba tua È roba Posso fare un unboxing Qua non ringrazio nessuno Perché L'ho comprato io Con i soldi miei Ho preso il vario Il variometro Che indica Un cambiamento Di velocità Verticale Ed è Prendo paura Prendo paura E quindi serve Per beccare le termiche In parapendio E probabilmente La smetterò Di planare Posso lavare i vestiti Ah quella è figa L'ho visto anche io Quella è bella Cesto Credo lo utilizzerò Per lavare i vestiti O per spegnere il fuoco Insomma Occupa Poco spazio Si chiude in un attimo E non dà fastidio Ah figo Bene Vi avevo accennato Forse no Perché io non sono bravo Non guardare Con Non sono bravo Con L'ordine cronologico Dei video Quindi a volte Dico una cosa E poi do per scontato Che quel video Sia stato pubblicato Quando in realtà Non è così Momento influencer Amazfit Mi hanno dato questo orologio Da provare Visto che io uso un sacco Un orologio Un orologio Ovvio che ne uso uno Quanti devo usare E io uso un Sunto Ambikpik 3 Del 2015 Molto vecchio E adesso Proverò in questi giorni Questo Che è uno Stratos 3 Poi mi ha inviato anche Non lo so Cosa Ah la bottiglia Ok c'è una bottiglia In omaggio Che ci sta sempre Non è una bottiglia Come si chiama il No Termos C'è un termos Quindi grazie Amazfit Non vuole essere Una marchettata Ve ne parlerò più avanti Non so neanche Perché Perché devo giustificare Quello che faccio Io ho sempre Il Il difetto Di giustificare Quello che faccio Niente Me l'ho andato da provare Lo proverò In questi giorni In realtà Non stiamo facendo Grandi camminate Ma solo Grandi mangiate Grandi bevute Quindi servirà poco Però Voglio ritornare in tenda Quindi lo proverò E farò No un video no Perché non sono Un video recensitore Di orologi Però Vi dirò come va Se riuscirò ad aprire La scappa Non potrò mai più guardare Non ti obbligare Ma invece si Va bene Allora Mi sono perso Un fogliettino Dove c'è scritto Ciao Iari Spero ti faccia piacere Questo piccolo pensiero Dalla Sardegna Ogni tuo video Rappresenta libertà Felicità E soprattutto Strasmette semplicità Cosa rara In questo mondo Sempre più complesso Io Davide Ho perso il mio cane Dopo ben 13 anni Quindi vedere te L'affetto che hai con Cherie Mi trasmette un po' di felicità Quando la natura chiama Iari risponde Bella Ci vediamo in Sardegna Davide Sicuramente Anzi Ti scrivo subito su Instagram Perché non mi ricordo Il tuo nick L'hai segnato qua Credo Grazie